Dal dolore per la perdita di una giovane vita, alla gioia per un'altra vita che continua, grazie a un gesto di estrema generosità. Un autentico atto d'amore è quello compiuto nell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, dove un andriese di soli 42 anni ha donato fegato, cuore e reni. A dare il consenso è stata la moglie dell'uomo, una decisione presa senza esitazione nonostante il momento di immenso sconforto. E così, nella sala operatoria diretta dalla dottoressa Antonietta Pacione, si sono alternate due diverse equip sanitarie, quella del Policlinico di Bari, che ha prelevato il fegato e il cuore, e poi quella del Policlinico di Foggia, che si è occupata invece dei reni inviati a Bari e Torino. Un pensiero di affetto ai familiari del donatore è stato rivolto attraverso un comunicato dell'ASLBT dal coordinatore donazioni dell'azienda sanitaria, il dottor Giuseppe Vitobello, che ha voluto ringraziare personalmente la moglie, i bambini e la famiglia del 42enne. A loro, e riportato nella nota, va il nostro più sentito abbraccio. Si tratta della seconda donazione multiorgano effettuata nell'ospedale di Bicedie dall'inizio dell'anno, la nonna nella ASL della sesta provincia. Siamo grati a tutti i nostri donatori e ai loro familiari per la forza che mostrano in quel sì che salva le vite, ha commentato la direttrice generale dell'azienda sanitaria, Tiziana Di Matteo. Vorremmo che a loro arrivasse la nostra vicinanza ed il nostro abbraccio.